Per il terzo anno consecutivo il Movimento 5 Stelle Sicilia ha deciso, con il taglio delle proprie restituzioni, di premiare degli atleti paralimpici siciliani. Oggi abbiamo avuto l'occasione di poter premiare gli atleti messinesi e sono delle borse di studio che utilizzeranno per poter comprare attrezzatura tecnica e sportiva oppure poter effettuare viaggi per partecipare alle gare. Sport e disabilità sono un binomio importantissimo, soprattutto in un momento come quello attuale in cui il Covid ha paralizzato tantissime attività. Investire sullo sport e investire sui disabili è una cosa che lo Stato deve iniziare a fare con maggiore efficienza. Noi abbiamo voluto dare un piccolo segnale agli atleti siciliani perché crediamo in loro e devono farlo tutte le istituzioni unite. Ciao, mi chiamo Roberta Macri e pratico il parapowerlifting, ovvero il sollevamento pesi. So che è uno sport che non sembra molto femminile, ma in realtà ci sono anche molte donne. Ringrazio chi si è occupato di organizzare questa consegna, degli assegni, perché ricevere del denaro per praticare sport per me è una cosa molto importante. Anche perché la mia società si trova a Militello, Val di Catania, io sono di Barcellona, Pozzo di Gotto, e viaggiare ha un costo. Praticare qualsiasi tipologia di sport ha un costo e purtroppo non è per tutti sostenibile. Però praticare sport dovrebbe essere non solo accessibile a tutti, ma anche praticabile da tutti. Quindi ringrazio ulteriormente per questa cifra che sarà spesa proprio per praticare questo sport che tanto mi piace e tanto amo.